Siamo con il team manager Bartolo Mancuso della Barcellona Basket 4.0, è terminata la prima fase, settimo posto, quattro punti da portare nella seconda fase. Possiamo fare un'analisi di quello che è successo in queste prime partite? Diciamo che si è concluso per ora e per adesso il campionato. Ci siamo salvati, abbiamo raggiunto brillantemente l'obiettivo. Siamo arrivati settimi e siamo contentissimi del risultato che abbiamo ottenuto, dei risultati di pubblico, dei risultati di sponsor. Quindi ora andiamo a affrontare una nuova fase che per noi sarà una fase di consolidamento e cercheremo di divertirci e di far divertire il nostro pubblico. Qualche vittoria di prestigio ma anche tante sconfitte a fil di sirena? Diciamo che durante il campionato abbiamo fatto delle belle vittorie con Capodorlando, con la Viola, abbiamo fatto delle bellissime partite anche perdendo negli ultimi minuti con Racusa, con Piersa Merina. Purtroppo abbiamo avuto il calo a fine stagione che ci poteva fare portare altri 3-4 punti nella nuova fase d'orologio. Non ci siamo riusciti, comunque siamo contenti di quello che abbiamo fatto fino adesso e stiamo puntando già al futuro, a programmare il futuro perché è giusto iniziare fin da adesso e a pensare al domani. Un plauso soprattutto al pubblico. Un plauso a tutti, al pubblico che ci ha seguito fin dall'inizio e ci ha dato fiducia e siamo felicissimi dei risultati che abbiamo avuto. Un plauso va a tutti i dirigenti che sono sempre presenti in tutti gli incontri, in tutte le riunioni, sono molto finiscini a tutta la società, tutta la squadra. E poi un plauso va sia ai ragazzi e allo staff che ha lavorato benissimo. E a questo punto qual è l'obiettivo per questa seconda fase? L'obiettivo per la seconda fase innanzitutto deve essere spensieratezza e pensare a divertirci. Se poi riusciamo a fare un filotto di 8 vittorie allora possiamo pensare di raggiungere i peli off perché bisogna qualificarsi in questa nuova classifica tra il primo e il secondo posto. Giustamente avendo solo i quattro punti è molto difficile, però non mettiamo pressione ai ragazzi, viviamo come abbiamo vissuto tutta la stagione. Perché noi abbiamo vissuto sempre con spensieratezza, impegnandoci però godendoci attimo per attimo tutte le partite e tutti gli incontri. Quindi faremo anche questo nella seconda fase, senza pretendere nulla, però combattendo come abbiamo sempre fatto.